No alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito al piano economico-finanziario sulla gestione dei rifiuti, lo hanno espresso i consiglieri comunali Enzo Cilignotta, Romina Morselli e Simone Morgana della Terza Commissione Bilancio e Programmazione, Salvatore Scerra e Sandra Bennici si sono astenuti. Esaminando il piano, dicono i consiglieri, è palesemente emersa la volontà di procedere ad un aumento delle tariffe senza elaborare alcun piano di incentivazione a lungo termine legato al sistema premiale per l'utente che decida di svolgere la differenziata, atteso che ad oggi il sistema risulta infatto non esistente e non produttivo di effetti. Il PEF, rilancio dei consiglieri, interviene in sistema di proroga e non si rinviene negli atti in possesso della Commissione alcuna azione e volontà dell'amministrazione dedicata al tempestivo avviamento della procedura di gara per la selezione pubblica ai sensi di legge di nuovo operatore. Io e il consigliere Morselli abbiamo motivato il no all'aumento delle tariffe tari per il 2017, ma per tre ordini di motivi. Innanzitutto ci troviamo in un servizio affidato ancora in regime di prorogazio, quindi si tratta di un servizio che non è stato messo sul mercato, con un capitolato d'appalto di forme da quanto prevede la legge, raccorta minima della raccorta differenziata pari al 65%, quindi contrastante con le disposizioni previste al diritto comunitario. Dopodiché l'amministrazione comunale non ha mantenuto gli impegni dell'anno scorso, che aveva dichiarato in aula che avrebbe introdotto il regime della premia all'età, più si differenzia e meno si paga, e poi è sotto l'archito di tutto che abbiamo un servizio in cui i costi sono lievitati notevolmente, 7 milioni siamo arrivati a 10 milioni di euro, ma la città continua ad essere sporca, per questo diciamo no all'aumento della tariffa. Nessun problema per quanto riguarda un eventuale danno erariale, perché la legge prevede che le tariffe devono coprire i costi, in quanto la Corte dei Conti, con la deliberazione 49 del 2016, proprio a proposito di un quesito fatto al Comune di Giella, ha stabilito che il Consiglio Comunale legittimamente può anche non approvare il piano finanziario e le tariffe, e l'amministrazione comunale si deve limitare semplicemente ad esigere le ultime tariffe approvate, che sarebbero quelle del 2014. Riteniamo che in un momento così difficile per la città non è possibile, non è consentito mettere le mani nelle tasche dei cittadini, quindi siamo contrari assolutamente all'approvazione di questa delibera.